Questa non è la fine. Neanche per sogno. Pronto? Io sono... sono... Pronto? Sto cercando di mettermi in contatto con qualcuno. Siamo stati fortunati a trovare qualcuno su questa trasmissione. Abbiamo perso intere città. Quando non c'è più nessuno da infettare, diventano dormienti. Intere città sono state perse. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma oggi che un aiuto potrebbe... Cerco di meningite ibridato con componenti di vaiolo e H1N1. Non sappiamo come sia cominciata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato un vaccino che funziona come una specie di camuffamento, rendendo le persone che lo ricevono invisibili agli infetti. Abbiamo guadagnato tempo. Contingenti di volontari stanno consegnando il vaccino nelle zone appositamente recintate. Il piano di distribuzione ha iniziato... L'importanza di diffondere le informazioni tra i sopravvissuti e le zone di 40. Ma ci ha dato una possibilità. Andate dove fa freddo. Lì si muovono più lentamente. La battaglia di Mosca è ancora in corso. I primi test del cosiddetto camuffamento sono stati un grande successo. Alcuni hanno iniziato a combattere. Forza, forza! Bruciamoli! Progettivo in avvicinamento. Chiedo il permetto di procedere. Perminano il ritardo. Suone libera. Ce l'ho tutto il tiro. È fatta! È fatta! Finalmente è finita! Tutto ciò che va all'inferno! Resta all'inferno! Questa è la stazione 7 del Nebraska. La radio trasmessa... Se potete combattere, fatelo. Andate a nord se potete. Pronto? C'è qualcuno che riesce a sentirmi. Aiutate gli altri. Messico City è stata dichiarata definitivamente persa. Siate pronti a tutto. La guerra è appena iniziata. Grazie a tutti! Grazie a tutti.